Buongiorno, mi chiamo Paola Trespidi. Mi piace oggi potervi parlare di IAL in un anno in cui ricorre il decimo anniversario in cui questa scuola a Piacenza è stata istituita. Noi siamo un laboratorio di esperienza. Buongiorno! Esperienza nella sua etimologia significa trovare, significa tentare. Noi, o meglio loro, questi ragazzi, sono un gruppo di persone che tentano e provano a diventare dei professionisti che avranno fuori di qui ancora il tempo di crescere. I chef, a me non piace a volte troppo chiamarli così, piuttosto che i maestri, perché dentro di me ho sempre il desiderio di poterli chiamare dai maestri. Per ciascuno di loro il futuro di successo non è caso mai diventare uno chef stellato, un mentor che andrà a servire nei ristoranti più prestigiosi del nostro territorio, anche fuori, in Europa e nel mondo. Vorrei dire per ciascuno di loro dare il meglio rispetto da dove arrivano, rispetto la loro famiglia, rispetto la loro cultura, rispetto le loro esperienze e dare il meglio all'umanità, perché è a questo che saranno chiamati.